Ospedali in affanno, malati allo sbando, carenza di posti letto, contagi in aumento e non mancano i decessi. Un dramma per familiari e pazienti che non riescono a trovare in tempo adeguata assistenza. Tante le difficoltà nella gestione dell'emergenza sanitaria da Sorrento a Torre del Greco. Nell'Asla Napoli 3 Sud attualmente sono aperti, anche per pazienti no Covid, i pronti soccorsi di Castellammare, Nola e Sorrento. In particolare nei giorni scorsi l'azienda aveva chiarito che il pronto soccorso del San Leonardo durante tutta l'emergenza pandemica non ha mai chiuso e nonostante le gravi difficoltà operative dovute all'enorme afflusso di pazienti continua ad offrire i propri servizi sanitari. Intanto questo pomeriggio i vertici aziendali hanno convocato tutti i responsabili dei presidi ospedalieri per illustrare il nuovo piano di rimodulazione degli ospedali dell'azienda per fronteggiare l'emergenza Covid-19 nell'Asla Napoli 3 Sud. Secondo i vertici aziendali occorre attivare una più adeguata e diversa gestione delle attività sulla scorta dell'attuale crescente curva epidemica registrata sul territorio aziendale, con un'offerta fondata su un numero sufficiente di aree assistenziali, con adeguata distribuzione territoriale, per assicurare un idoneo e consistente numero di posti letto nelle diverse discipline che caratterizzano il percorso del paziente Covid, ma che abbia in debito conto il mantenimento dell'assistenza sanitaria per le altre patologie urgenti non Covid. Il piano discusso questo pomeriggio sarà presentato alle organizzazioni sindacali e inviato successivamente ai sindaci dei comuni. Intanto è in programma lunedì alle 9.30 un sit-in dinnanzi alla sede della Direzione Generale dell'Asla Napoli 3 Sud a Torre del Greco, promosso dall'Associazione Promaresca, per chiedere la riapertura del pronto soccorso dell'ospedale torrese. Invitati a partecipare anche i sindaci di Torre del Greco e Dercolano. Chiediamo di essere ricevuti dal Direttore Generale. Dicono, il pronto soccorso dell'ospedale torrese deve essere aperto anche per pazienti no Covid.